Massimo Bitonci, che cosa ne pensa delle dichiarazioni della presidente del Friuli Venezia Giulia Serracchiani sul ministro Zanonato? Direi dichiarazioni molto pesanti perché la Serracchiani è una componente importante del partito, presidente del Friuli, è renziana e quindi attacca direttamente un suo ministro. In realtà gli chiede proprio le dimissioni. La questione è quella relativa all'Ettrolux che conosciamo tutti. La Serracchiani, peraltro cose che io condivido pienamente, dice che bisognava forse convocare un tavolo prima che l'Ettrolux dichiarasse di andare all'estero e quindi di chiudere la partita in Italia lasciando a casa centinaia e centinaia di persone. Questa è una cosa incredibile. Noi siamo sulla stessa linea, diciamo da tempo, lo diciamo da un anno quasi, che questo ministro è un ministro non competente, ha fatto sì il sindaco, però non ha nessuna competenza di economia. Peraltro non è nemmeno sul pezzo perché ricordiamo che ci sono 50 fallimenti al giorno, ci sono 150 tavoli di grandi aziende aperte al ministero, ma vediamo che il ministro non si interessa assolutamente di queste problematiche. Quindi, come dice la Serracchiani, questa unica volta siamo d'accordo con lei, il ministro Zanonato dovrebbe dimettersi.